Stiamo andando a liberare Minnesota, una tartaruga caretta caretta e i pescatori hanno consegnato al WWF perché la rimettessero in sesto e lì, come potete vedere, lei non sa ancora che sta riprendendo la sua libertà. Il mare è il segno più grande di libertà, ha le sue regole, ha delle regole ferre come la Costituzione della Repubblica Italiana.